La Coppa sorride a Liberty che in una gara mortifera, soprattutto nella ripresa, fa sua l'intera posta in palio grazie alle reti di Beppe Frisenda e Juan Pablo Suarez. Lo cortondo inesperto e poco incisivo in attacco manca quel Sergio De Tommaso, prezioso finalizzatore e suggeritore dell'anno passato. Allenatori che fanno rifiatare un po' gli elementi rispetto alla gara vista qualche giorno fa tra gli Adriatici e i Valigiani. Esclusi Benardo, Carlucci e Uva da una parte, Serri, Beltrame e Cassano dall'altra. L'avvio è segnato dalla rete d'apertura di Beppe Frisenda che al secondo minuto batte Maggi dopo un cross dalla destra e la torre di Suarez. Nulla da fare per il portiere che lascia saltare in aria, piccola la punta salentina. Al dicesettesimo Caracciolese pericoloso, Lo Seto e Suarez fraseggiano al limite dell'aria, la palla arriva sui piedi della punta barese che però non c'entra la porta. Al trentaquattresimo arriva il raddoppio della Liberty con Suarez, bravissimo a destreggiarsi in un paio di metri e a concludere con una fantastica sforbiciata che non lascia scampo a Maggi. Grandissima rete è quella dell'ex Noi Cattaro che fa valere il peso di attaccante di categoria superiore. Bessi del puntero al quarantatreesimo, questa volta dopo essersi infilato tra due calciatori del loco, trova l'estremo ospite a ostruire la strada. Con le immagini passiamo alla ripresa, nettamente inferiore ai primi 45 minuti. Il caldo e la stanchezza fanno la loro parte rendendo la gara a tratti molto noiosa. Al ventiduesimo ancora Suarez tenta la via del gol ma sbaglia bersaglio a pochi passi da Maggi. Due minuti più tardi Lo Seto fa secchi due versari, vede Caracciolese in aria, ma il numero otto tira fuori. Ancora Lo Seto, anche oggi sugli scudi, tenta una bella volè dal limite dell'aria al 36esimo. Ancora Lo Seto, anche oggi sugli scudi, tenta una bella volè dal limite dell'aria al 36esimo. La palla fa la barba al palo. Nel finale viene espulso Francesco Bitetto, reo di aver protestato con fuga dopo un rigore negato ai padroni di casa. Termina 2-0 l'incontro, un viatico che dà maggior fiducia alla truppa molfettese, in vista del ritorno al comunale di Viale Olimpia il 22 ottobre. Grazie. 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 Grazie.